Giù le mani dal parco. Il parco di cui parliamo è l'area verde di Soria, compresa tra Lungofoglia Caboto, Via Nobiliore e Via Donzelli e a invocare questo giù dal parco sono oltre mille firme dei residenti di questa zona che si oppongono alla possibilità dell'installazione della torre di telefonia Iliad, prevista da una determina del comune una settimana fa. Una situazione è venuta allo scoperto grazie all'impegno delle associazioni ambientaliste che hanno rivelato questa eventualità, Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF, residenti che dicono no, che anche ieri si sono incontrati nella sede di quartiere per confrontarsi sugli ulteriori sviluppi e dicono no per i seguenti motivi. Noi appena abbiamo visto questo atto dell'amministrazione ci siamo mossi per raccogliere le firme, ne abbiamo raccolte tante perché siamo contrari all'installazione di questa antenna in questo posto in particolare perché è vicina alle case, vicinissime alle case dove c'è un parchettino, un parchetto che possiamo utilizzare per noi, per la nostra socialità e a proprie margini del nostro quartiere dove c'è un'alta densità di abitazione. Abbiamo chiesto di incontrarci con gli amministratori perché intanto loro possono ritornare sulle loro azioni facendo anche una delibera in autotutela perché l'amministrazione pubblica può sempre in ogni momento, fin quando non è definitivo il contratto con le società, in questo caso Iliad, ritornare sulle proprie azioni, ripensarci e quindi annullare quello che hanno fatto. Noi chiediamo questo all'amministrazione tenuto conto dei danni che si possono fare installando qui un'antenna di quelle dimensioni, abbiamo detto salute, poi c'è anche l'impatto visivo ambientale che naturalmente viene dopo la salute ma è altrettanto importante. Mi sento in dovere anche di fare alcune precisazioni. La prima riguarda l'attuale amministrazione che al momento in cui è stato scelto questo luogo per la stazione radio, non c'era, era un'altra amministrazione, c'erano altri assessori, quindi questo per correttezza, per onestà va detto. Va detto anche che la scelta è più tecnica che politica, ma a questo punto la gente si pone una domanda. È vero che i tecnici hanno seguito alla lettera le regole con le quali si rilasciano queste autorizzazioni, ma la domanda che la gente si pone, i tecnici sono dei passacarte o sono persone pensanti? Prima di rilasciare un'autorizzazione, pur con tutte le carte in regola, in un luogo come questo, una riflessione, i tecnici stessi avrebbero dovuto farla. Questa è la prima considerazione. La seconda che facciamo, in realtà non è che non vogliamo l'antenna, vogliamo l'antenna nei posti giusti, dove non nuoce alle persone. Avere una stazione radio qui, il valore degli immobili inevitabilmente si abbassa. E questo non va bene, perché un'amministrazione attenta deve curare sia l'aspetto salutare delle persone, ma anche quello economico. Proprio nel tardo pomeriggio di oggi sono arrivate attraverso un comunicato stampa le rassicurazioni del Comune attraverso l'assessora alla rapidità Mila della Dora, che ha detto come non sia stato rilasciato alcun permesso e come ci si stia relazionando con Iliad per sottoporre soluzioni alternative alla localizzazione in siti non particolarmente vicini alle residenze. Il Comune ricorda anche che le valutazioni ARPAM assicurano sull'assenza di danni per la salute, visti i bassi livelli di emissione. L'assessora alla sostenibilità Aidi Morotti ha aggiunto che l'eventuale installazione dell'impianto Iliad in Vianobiliore è conforme al piano comunale dei siti idonei per la telefonia mobile e che anche nell'area scelta non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici all'installazione. Assessore che in ogni caso si sono attivate per valutare soluzioni alternative, viste le istanze dei residenti.